Parte l'11 febbraio a Pesaro il nuovo corso di clown terapia della Timmagini Onlus, con le iscrizioni aperte fino alla fine di gennaio per diventare clown dottore nelle corsie degli ospedali di Pesaro e Fano. Un'opportunità per combattere l'emarginazione degli anziani e operare in missioni esteri in giro per il mondo. Lo scopo è quello di portare umanità a chi soffre aggiungendo un po' di sano umorismo e utilizzando solo un naso rosso, un camice colorato e il desiderio di vivere tante emozioni. I corsisti saranno fiancheggiati dai 18 volontari che da più di 10 anni fanno parte di questa associazione, oltre che da professionisti esterni che insegneranno le basi dell'improvvisazione teatrale, delle micromagie, del comportamento da tenere in ospedale e tanti altri trucchi per mettersi in gioco. Ma anche superare timidezza e paura acquistando tecniche per la propria autostima, imparando a relazionarsi serenamente con persone sofferenti, portando gioia e allegria, ma sempre contatto e delicatezza.